La voglia di raccontare il viaggio che hanno fatto tanti emigranti, persone che non hanno potuto gridare il loro dolore per il distacco dalla propria terra, le umiliazioni che hanno subito e la voglia di riscatto che avevano e che si realizzava attraverso il lavoro. Quindi quel viaggio l'ho fatto raccontare alla figlia di due genitori, anziché uno, due, che sono costretti a partire per la Germania, lei si chiama Lucia e vi racconta quel viaggio. Beh, però anche lì c'è un viaggio, vedi, è il viaggio sulla scopa che fanno Babbo Natale e la Befana, che si incontrano casualmente una sera e per colpa di una caduta sono costretti poi a andare a casa, a curarsi le ferite, da lì insomma nasceranno poi tante situazioni belle, anche dolci, se vuoi romantiche tra di loro e faranno questo viaggio sulla scopa perché una tormenta di neve impedisce a Babbo Natale di usare la sua slinta. Usando la scopa andranno dalle Alpi fino alla Sicilia e passeranno sulle tante bellezze dell'Italia, addirittura venendo qui in Puglia vedono quella meraviglia della cattedrale di Trani e ne rimangono incantati e quindi fanno un bel viaggio insieme, assolutamente, spero, e non solo per i vostri, diciamo così, fedeli, I like Puglia e io mi sono diciamo vicina perché abbiamo fatto delle belle cose insieme, me lo auguro davvero a tutti, a quelli che guarderanno, a quelli che lo guarderanno dopo, a quelli che lo guarderanno ancora dopo le feste, che sia una buona vita per tutti e tanti auguri. Grazie a tutti!